Vogliamo un'Europa che non lasci indietro nessuno e che funzioni per tutti, che sia utile a tutti. A un anno dalla scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo e giornalista, il Consiglio regionale della Toscana lo ricorda con la prima edizione del premio alla miglior tesi di laurea David Sassoli, a tema l'Europa, le regioni e i cittadini, dedicato agli studenti degli Atenei Toscani. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'assemblea legislativa e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. E in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni, essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Il premio, nato per volontà del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, unitamente a tutta la Commissione Europa, presieduta dal consigliere Francesco Gazzetti, assegna ai tre vincitori un monte premi di 10.000 euro, 22 le tesi in concorso che contribuiscono ad approfondire gli studi europei e la discussione pubblica su temi di attualità, giustizia sociale, politica e diritti lavoro. È un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ragazzi toscani che il Consiglio regionale attraverso la Commissione ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori e credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la Commissione Valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Alice Campolmi, neolaureata dell'Università degli Studi di Firenze, si è giudicata al primo premio con una tesi di diritto europeo scelta all'unanimità dalla Commissione Esaminatrice. La mia tesi ha oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri e la parte però più interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni. A Filippo Bordoni dell'Università di Pisa è il secondo premio per il suo studio sul management attraverso algoritmi, privacy e tutela dei lavoratori. È un progetto che tratta la possibilità che i poteri tipici del datore di lavoro siano esercitati attraverso algoritmi e che quindi decisioni fondamentali per la vita dei lavoratori siano automatizzate con la conseguenza che questo potrebbe compromettere la vita stessa dei lavoratori, i loro diritti. Sicuramente l'Europa può fare di più in tema di diritti sociali, in tema di protezione dei suoi lavoratori, ma forse questo è uno dei tanti messaggi, ma un messaggio fondamentale che ci lascia l'esempio di David Sassoli, cioè la possibilità di un'Europa diversa, più attenta ai diritti delle persone, più attenta ai temi sociali. Terza classificata, Mira Manini Tivari, studentessa dell'Università degli Studi di Siena per la sua tesi su Twitter e comunicazione della legislazione europea. A ritirare il premio il relatore Simone Borghesi.